benvenuti in lego city undercoba questa sarà una missione molto difficile se mi metto a ridere il video finisce quindi questo video sarà incredibilmente serio non ci sarà nulla di cui sghignazzare non ci sarà nulla per il quale dobbiamo divertirci ed è per questo che andiamo a fare missioni secondarie super esilaranti mi sembra giusto allora io che stavo per dire da quanto tempo è che non torniamo a lego city esatto